Le ragioni del sì e quelle del no per il prossimo referendum che proporrà se accettare o meno la riforma della Costituzione italiana. Il centro calabrese documentazione e studi Pasquale Perugini scende in campo promuovendo un seminario che ha visto protagonisti e esponenti locali dei due fronti. Un'occasione per informarsi meglio e per dibattere dei pro e dei contro della riforma. Un centro studi si fonda essenzialmente sul volontariato quindi come tutte le associazioni che si fondano sul volontariato a momenti di grande impegno, momenti anche di rilassamento. Stiamo riorganizzando la nostra attività, vorremmo nel tempo organizzare due o tre incontri nell'anno sui temi di maggiore attualità. Tra 30 giorni si voterà per il referendum e quindi abbiamo fatto una riflessione molto semplice. Perché non chiamiamo a discutere due esponenti del sì e due esponenti del no. Abbiamo invitato l'onorevole Paolo Palma e l'avvocato Giuseppe Di Polito che sono esponenti sostenitori del no. Abbiamo invitato la dottoressa Biancharende e l'onorevole Franco Bruno che sono due esponenti del sì per avere un confronto sereno, civile su quello che è il contenuto del quesito referendario e poterne discutere con le persone che questa sera verranno al nostro incontro.